Tecnici per la campagna. A Pieve Pelago in Emilia si studia per diventare dirigenti di cooperative agricole. Qual è oggi l'argomento della lezione? Enologia. Vino? Sì, sì, vino. Perché grazie a Dio che che se ne dica di vino buono in Italia se ne produce ancora parecchio. È proprio così, anche se la stampa qualche volta ha parlato in modo un po' di forme in proposito. Ma lei professore, le frodi, le conosce tutte? Beh, io credo di sì, a meno che non ne abbia inventata qualcuna di nuovo proprio questa notte. Il corso è patrocinato dal Ministero dell'Agricoltura. 35 giorni di lezioni, poi gli allievi fanno 6 mesi di tirocinio presso cooperative della zona. A Mensa l'appetito non manca e tra tanti esperti le sofisticazioni non riescono a entrare in cucina, a meno che...